Il campo Lombardi di Marina di San Nicola nel pieno degrado, su pelletti li divelti, lavandini frantumati e chiunque può entrare in campo con la responsabilità qualora qualche bambino si facesse male che andrebbe sulla pelle dell'amministrazione comunale di Ladispoli. Venendo qui nel campo sportivo Lombardi di San Nicola veramente sono rimasto impressionato di questo degrado e di vedere la struttura completamente distrutta, devo dire, dalla veranda del bar, gli spogliatoi al cancello aperto che è veramente rischioso per i bambini che vengono qui a giocare materialmente. La gestione dell'impianto è stata affidata a una società sportiva che dovrebbe come prima cosa ricostruire un campo da calcio a 11 che avrebbe una funzionalità sociale per una città con più di 40.000 abitanti. L'auspicio sicuramente perché chi ha preso questo campo è un centro sportivo importante che è il Gabbiano che sicuramente trasformerà questo impianto con molta cura e attenzione. Quello che ci ritengo particolarmente è che è giusto che attorno al campo di calcio a 11 ci siano delle strutture collaterali, paddol, pub ristorante o palestra, ma non si può snaturare, su quello mi batterò sicuramente e lo garantisco a tutti quanti che una cittadina di 42.000 abitanti come Ladispoli non può avere un solo campo di calcio, dovrà rimanere per forza il secondo campo di calcio a 11 qui a San Nicola. Di questo scempio rimane indelebile la foto e il ricordo di Daniele Nica.